bentornati amici del gameplay su game oversize sono tra 90 bentornati su monster hunter world allora in attesa di far salire il nostro gc che è fermo a 45 nel tempo che faccio missioni facoltative e vari e varie cose voglio mostrarvi l'arena che io ho trovato divertentissima e piano piano in questa serie di video brevi perché avranno dato lato di un combattimento dell'arena andremo a vedere tutte le nostre arene e tutti i mostri che possiamo affrontare nelle arene piano piano sbloccandone altri alcune già le ho fatti quindi il mio obiettivo sarà anche di migliorare i nostri record se riusciremo a fare un oro esploderemo in un oro di gioia cosa difficilissima però non si sa mai o in coppia perché se posso fare in coppia o da soli vediamo se troviamo qualcuno che gioca insieme a noi iniziamo con la prima quella del bukei bukei e vediamo cosa riusciamo a fare vediamo se qualcuno si unisce alla nostra sto in una sessione online appositamente creata per le arene infatti vediamo che c'è parecchia gente qui intorno questa qui è come si chiama non mi ricordo comunque sta sopra la mensa sta è una zona dove l'unica zona di tutta l'hub dove si può prendere gente dove si può vedere la gente in modo persistente ora yuk è entrato con noi yuk che ha un gc di 100 quello che ha creato la stanza credo è abbastanza abbastanza forte penso eh ipotizzo se è lui ma non lo so andiamo ha usato quella distanza ma adesso che cosa no io voglio il martello voglio adesso ci voglio il martello ci voglio proprio divertirmi con il martellone ragazzi mi ci diverto troppo allora l'equipaggiamento 4 danno loro quindi dovete vederlo bene quello che preferite lo scegliete e andate ora io non so cosa mi hanno usato insieme al martello non so neanche se era la scelta migliore ma mi piace l'idea di usare il martello in questa cosa allora se lui non corre lui aveva proprio 50 di vita addosso gli va abbiamo una pillola da saluta almeno quella una bistecca di queste ci mette ventaglia a mangiarle il nostro e si va mega posizione l'altra cosa abbiamo non ci frega niente se hanno cita poi hanno mandato i cortellini avvelenanti che veramente non so nulla ma sono addormentanti sono addormentanti erano ho toppato io ho toppato io ho perso un sacco di danno che potevo farvi non fa niente dove sta andata sto scemo non si è fatto un cazzo balordo scendi giù scendi giù proprio in faccia ragazzi che bello bello rende con il martello la gente in faccia ci ha avvelenato ma non ci fa niente non ci fa niente non ci frega niente non ci frega in questa arena abbiamo combattuto in modo assurdo figura di merda clamorosa in questa arena si andiamo andiamo a far di male eh si ciao in faccia no sei proprio un infame ah attenzione è il velo di merda è il velo di merda viva ci ha stordito cazzo questo bastardo ci ha stordito Luke attacca Luke attacca Luke attacca Luke se voglio voglio fare tipo il salto mortale dai 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 in qualche modo ci siamo saliti in faccia in faccia martellata in testa non te la toglie nessuno non te la toglie il mio caro Bukhei il mio caro Bukhei il record ormai è andato a puttane ma non fa niente non faremo mai una taglia d'oro ormai è questo quel che ho iniziato malissimo poteva anche aspettarmi lui che mi curassi cioè che mi aumentavo le stat ecco però te la prendi tutta proprio in testa in testa così se non si sposta adesso facciamo un male cane un male cane patto mamma mia mamma mia mamma mia gli è entrato da tutto il Big Bang ma perché toglie eh vabbè purtroppo toglie sempre il martello di dosso eh vaffanculo sto vereno ci ha rotto proprio le bolse se lo faccio dire signore attento lo senti il martello lo senti il martello vieni qua dove vai io ti sfondo eh ti sfondo eh ma non lo senti preso preso in qualche modo preso nooo ci ha tolto la combo Luke lei con questo spadone sta facendo abbastanza poco signor Luke ok finito si ma quando mai ci avevo messo 4 minuti secondo me sicuro poteva andare meglio ragazzi poteva andare meglio poteva andare meglio poteva molto andare meglio porco cane ahhh studio e 28 nuovo record ma stiamo lontani da fare il record vero quella A che vogliamo prendere ma non prenderemo mai porco cane porco cane è impossibile è impossibile ragazzi è impossibile è andato qualche giù fa facilmente però però ci manca ancora ci manca parecchio ok ragazzi io vi saluto qua ci vediamo domani con la prossima arena faremo tutta una serie di video fino ad arrivare almeno all'ottava e poi da quelle dopo saranno ancora più e più difficili ci sarà da divertirci quindi io vi ringrazio vi saluto e ci vediamo nel prossimo video ciao ciao ragazzi ciao ciao